momenti di paura per una bambina di 13 mesi a calta nissetta ora sta meglio sanità incontro alla presenza del prefetto furto notturno in corso vittorio emanuele donna ricoverata ladrinazione piscina comunale il punto sulla situazione ben trovati apriamo questa edizione del telegiornale con una notizia dell'ultima ora il servizio calta nissetta intervento preventivo dei vigili del fuoco della polizia municipale su ponte san michele a poche decine di metri dalla chiesa omonima del santo patrono della città è stato necessario chiudere il traffico da via fra giarratana verso via catania e da via salemi verso piazza della repubblica per consentire la verifica dello stato del ponte che si trova in uno dei punti di snodo del traffico veicolare cittadino a destare particolare attenzione uno dei giunti del ponte già da poco prima delle 18 i mezzi articolati degli uomini dei vigili del fuoco e gli uomini stessi hanno raggiunto il ponte per intervenire e svolgere le opportune verifiche del caso momenti di paura per una bimba di 13 mesi trasportata da calta nissetta a palermo dopo una crisi respiratoria ora sta meglio sono stati momenti di paura quelli vissuti dai familiari di una bimba di 13 mesi di calta nissetta fortunatamente dopo lo spavento iniziale le condizioni della bambina sono in miglioramento la piccola era stata trasferita in gravi condizioni all'ospedale pediatrico di cristina di palermo nel primo pomeriggio di sabato dopo un primo soccorso all'ospedale santelia dove era arrivata in preda a delle convulsioni e a una crisi respiratoria i medici di guardia si sono accorti subito delle gravi condizioni della bambina così hanno chiesto l'intervento dei rianimatori che l'hanno subito intubata successivamente è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di cristina di palermo l'elicottero infatti a causa delle condizioni climatiche avverse non ha potuto alzarsi in volo la bimba inoltre sottoposta al tampone covid risultata negativa in realtà la bambina di soli 13 mesi ha inalato cibo nei polmoni e questa la causa delle convulsioni della conseguente crisi respiratoria per fortuna le condizioni della bambina sono in miglioramento infatti si è risvegliata e domani dovrebbe uscire dalla terapia intensiva per continuare l'adegenza nel reparto di pediatria dell'ospedale di cristina sanità nissena un incontro alla presenza del prefetto chiara armenia continua l'attenzione delle istituzioni di calta nissetta nei confronti della sanità nissena in particolare venerdì a seguito di una formale richiesta da parte del segretario generale della cg l'angelo polizzi e del coordinatore del comparto sanitale sandro lamarca il prefetto chiara armenia presieduto una riunione per discutere le problematiche inerenti la sanità locale nel corso dell'incontro le parti si sono confrontate su diverse questioni in uno spirito di grande collaborazione nella consapevolezza che solo un dialogo costruttivo e leale può condurre a risultati positivi nel settore della sanità ad esclusivo vantaggio dei pazienti erano presenti il direttore generale dell'azienda sanitaria il dottor alessandro caltagirone il direttore sanitario la dottoressa marcella santino e il direttore amministrativo il dottor salvatore iacolino è stata l'occasione per trattare alcune tematiche mentre per altre si è deciso di rimandare a separati tavoli che si terranno presso la locale azienda sanitaria con l'impegno da parte di tutti a evitare contrapposizioni e chiusure che ostacolino il dialogo il prefetto inoltre nel prendere atto dello spirito di collaborazione manifestato durante il confronto ha richiamato l'impegno di tutti ad affrontare le diverse questioni con toni pacati evitando qualunque forma di personalismo e agendo sempre con l'esclusiva intento di perseguire il bene comune. DAO è l'acronimo che indica il dialogo assessori ordini utilizzato dal presidente dell'ordine dei medici Giovanni Dippolito per sintetizzare i concetti di sinergia e collaborazione tra il mondo medico isolano e l'assessorato a ramo della regione siciliana in occasione dell'incontro con l'assessore regionale Giovanna Volo che ha sottolineato dobbiamo portare avanti i programmi che riguardino il territorio che sono la prevenzione che sono l'assistenza ai fragili e alla cronicità. Sempre all'ordine dei medici si è conclusa la prima giornata di lezioni su progetto Trinacri all'ottimizzazione dell'assistenza sanitaria in emergenza furto notturno in corso Vittorio Emanuele all'interno di un negozio portati via il registratore di cassa e alcuni snack il servizio. Nella tarda notte di venerdì è avvenuto un furto in corso Vittorio Emanuele ai danni di un minimarket di proprietà di un nigeriano. I malviventi hanno spaccato la vetrata del negozio portandosi via il registratore di cassa con circa 200 euro e alcuni prodotti. Ad accorgersi dell'accaduto vedendo il vetro in frantumi è stata una guardia giurata che prestava servizio in centro storico. Sul posto è intervenuta una pattuglia delle volanti e successivamente la polizia scientifica per i rilievi. Adesso sono in corso le indagini per risalire agli autori del furto. Mentre una donna era ricoverata al Sant'Elia i ladri sono entrati in azione nella sua casa in via Signorino. Hanno portato via un televisore ed altri oggetti. Tempestivo l'intervento della polizia di stato. Furto in un appartamento di via Signorino nel centro storico di Caltanissetta. I malviventi sono entrati in casa di una donna anziana che da alcuni giorni era stata ricoverata in ospedale che a causa di alcune complicazioni era deceduta. I vicini vedendo la porta della signora aperta hanno avvertito la polizia. I malviventi hanno portato con sé il televisore e alcuni piccoli elettrodomestici e sicuramente sapendo del ricovero della signora hanno potuto agire indisturbati. Il consiglio comunale di Caltanissetta tornerà a riunirsi il 14 e il 20 dicembre alle 17 a Palazzo del Carmine, convocato dal presidente Giovanni Magri. Diversi punti all'ordine del giorno, oltre ai riconoscimenti di debiti fuori bilancio, l'approvazione del regolamento sulla partecipazione civica e la mozione che riguarda gli aiuti economici straordinari per sostenere famiglie e commercianti a fronte del caro Bollette. Parliamo adesso della piscina comunale, il punto della situazione mentre la città attende la riapertura dell'impianto sportivo in via Rochester. Elisped, l'istituto per i disturbi pervasivi dello sviluppo che da anni porta avanti le istanze di buona parte delle famiglie che si confronta quotidianamente con l'autismo a Caltanissetta che nei giorni scorsi, attraverso un comunicato diffuso dal presidente Mare Grazia Pignataro, aveva lanciato l'allarme sulla piscina comunale per l'uso anche da parte dei giovani adulti e adulte con grandi e gravi, gravissime disabilità. Preoccupazione che nasceva dalla proposta progettuale da parte della ditta paltante che sta intervenendo sulla struttura di abbassare la profondità della vasca ad un metro e quaranta centimetri in modo omogeneo. Questo, segnalava nella nota Elisped, ha destato preoccupazione per l'utilizzo della piscina per i figli e le figlie degli associati che ormai adulti e adulte, avendo acquisito un'ottima acquaticità, avrebbero visto ridurre ad una passeggiata, sottolinea Pignataro, non ravvisando alcuna motivazione nel nuotare in una piscina dove potevano rimanere tranquillamente in piedi per tutta la lunghezza del percorso. Dopo queste dichiarazioni c'è stato l'incontro con gli assessori dell'amministrazione Gambino, Caracausi per lo sport e per le politiche sociali andaloro, che congiuntamente hanno comunicato di essere d'accordo con l'Isped dichiarando che nei prossimi incontri con i referenti della ditta paltante avrebbero chiesto chiarezza al di là di ogni legittima pretesa per soluzioni che mirassero a favorire risparmio energetico e che andassero incontro alle aspettative dei cittadini garantendo i bisogni di tutti, in particolare delle persone più fragili. I due assessori nella dichiarazione congiunta hanno inoltre ribadito che la proposta di livellare tutta la vasca comunale a 1,40 m sarà rigettata pensando piuttosto ad altre soluzioni più idonee come il mantenimento della profondità ad 1,80 m per buona parte della lunghezza delle corsie. Dal canto suo anche RT Caltanissetta Sportiva, attraverso una nota diffusa da Fabio Amato, ha comunicato che lo scorso 30 novembre alla presenza dell'assessore allo sport Caracausi e del dirigente dell'area tecnica, l'ingegnere Tomasell, si è svolto il sopraluogo dell'impianto in via Rochester per valutare meglio le ipotesi di modifica delle strutture attuali nella vasca grande con l'aiuto di un tecnico esperto di impiantistica natatoria, già accreditato dalla FIN, ovvero dalla Federazione Italiana Nuoto, anche egli presente, oltre a possibili interventi mirati, ad ottimizzare la resa termica e la compatibilità delle modifiche proposte con le norme stabilite dalla Federazione per lo svolgimento delle attività natatorie federali contemplate e con le manifestazioni sportive, comprese le gare ufficiali in quella sede. Si è stabilito, prosegue la nota, in un supplemento di indagine, interpellando direttamente con la FIN con cui, dicono ancora nella nota, si confronteranno per evitare che le proposte di riduzione di volume della vasca debbano poi risolversi in una minore offerta sportiva. Conclude poi dicendo che le risultanze delle interlocuzioni con la FIN saranno tempestivamente condivise con l'amministrazione comunale e diffuse con i mezzi più idonei. Caro Bollette, l'assessore regionale Tamaio annuncia 250 milioni per le imprese siciliane pronti a erogare il bonus energia e il servizio. Il sostegno al settore industriale siciliano continua a essere la stella polare dell'azione politica del Governo regionale guidato da Renato Schifani e all'assessore alle attività produttive, Edith Tamaio, a confermare la vicinanza dell'esecutivo regionale a tutto il comparto produttivo siciliano. L'Aggiunta regionale, infatti, ha approvato il provvedimento che destinerà complessivamente 365,7 milioni di euro alle imprese dell'isola per contrastare l'aumento dei costi dell'energia. Aiuteremo le imprese siciliane, dice Tamaio, ad affrontare vertiginosi rincari dei costi dell'energia causati dalla crisi internazionale, aumenti che stanno mettendo a rischio la sopravvivenza di molte aziende. Ci siamo attivati per erogare al più presto il bonus energia, grazie ai 250 milioni che il Governo Schifani ha affidato al Dipartimento delle Attività Produttive per aiutare gli imprenditori della nostra Sicilia a fronteggiare il caro Bollette. Siamo al lavoro, conclude, sugli avvisi da rendere pubblici nei prossimi giorni e dare così respiro alle realtà aziendali nei vari comparti produttivi e alle tante famiglie che vi ruotano attorno. I fondi destinati all'assessorato di Via degli Emiri costituiscono la parte più cospicua dello stanziamento totale approvato dal Governo regionale. Il Dipartimento diretto da Carmelo Frittitta ha già definito i criteri per la concessione degli aiuti. Il contributo avrà erogato in percentuale al 30% sull'aumento rispetto alla tariffa del 2021 del costo di gas e luce registrato tra il 1 febbraio 2022 e la data dell'ultima fattura di fornitura disponibile. L'importo massimo del beneficio concedibile a ogni singola azienda è di 20.000 euro. La FLC CGL Sicilia e la Will Rua Sicilia indicano per martedì 13 uno sciopero generale contro la legge di bilancio. I segretari regionali Adriano Rizza e Claudio Parasporo puntano l'attenzione su scuola, lavoro dipendente, aree di precariato, fisco, pensioni e trattamento salariale. Ad incrociare le braccia saranno i lavoratori dei comparti istruzione, università, ricerca, formazione professionale e settori privati. Per i servizi pubblici essenziali lo sciopero sarà esercitato nel rispetto di quanto previsto dalla legge. Parliamo adesso di caro energia. San Martino dichiara 70 milioni agli agricoltori siciliani nei prossimi giorni, l'avviso. L'aumento del costo dell'energia rischia di mettere a dura prova l'esistenza dell'intero sistema industriale. Fra i settori più a rischio c'è il comparto dell'agricoltura, soprattutto nelle regioni meridionali dove il peso della crisi energetica sarà più determinante. È in questa direzione che va letto il provvedimento approvato dall'Aggiunta regionale a sostegno del settore agricolo siciliano. Subito 70 milioni alle imprese agricole tra le più colpite dal rialzo dei costi dell'energia. Nei prossimi giorni partirà l'avviso pubblico perché vogliamo erogarli al più presto. Con queste parole l'assessore regionale all'agricoltura Luca San Martino ha anticipato il provvedimento approvato dall'Aggiunta regionale che destinerà complessivamente 365,7 milioni alle imprese siciliane per contrastare il caro bollette. Di questo stanziamento 70 milioni appunto andranno al comparto agricolo. Intanto, continua San Martino, si parte subito con queste risorse la metà delle quali sarà impegnata per mitigare gli effetti del caro gasolio che ha reso l'uso dei mezzi agricoli più oneroso. L'altra metà sarà invece destinata alla filiera della trasformazione, cantine, oleifici, florovivaismo, settore caseario e depositi. L'agricoltura ha subito due volte il peso dei rincari. Da un lato gli imprenditori hanno speso di più per l'acquisto delle materie prime e dall'altro hanno avuto maggiori costi per la loro lavorazione. Una morsa, conclude, che ha ridotto i guadagni dell'intero settore. Ecco perché occorre intervenire tempestivamente. La Polizia Stradale di Caltanissetta ha concluso il quarto ciclo di incontri con diverse classi delle scuole superiori di Caltanissetta e San Cataldo. Sui temi della sicurezza stradale è evidenziata la pericolosità di certe condotte come l'utilizzo di alcol e droghe che mettono a rischio la propria e altrui incolumità ed esprimono forte debolezze ed incapacità di comunicare la propria forza e il proprio valore. Così si legge su un post all'interno della pagina social della questura di Caltanissetta approfondito l'aspetto dello sviluppo di una maggiore consapevolezza rispetto al proprio agire ragionando sulla responsabilità delle conseguenze che scaturiscono dall'adozione di un comportamento. Parliamo adesso di trasporti dichiara l'assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità Alessandro Enrico otto nuovi treni in Sicilia. Continua il piano di ammodernamento del trasporto ferroviario in Sicilia in quest'ottica la regione siciliana ha finora rispettato i tempi previsti dal cronoprogramma del piano di investimento in materiale rotabile la giornata al 2026 con la dotazione di 42 nuovi treni regionali che saranno tutti in circolazione entro il primo semestre 2023. Un ulteriore passo avanti verso il potenziamento dell'offerta qualitativa e quantitativa di trasporto ferroviario in Sicilia in linea con gli obiettivi strategici di completamento dell'anello ferroviario dell'isola e della velocizzazione della tratta Palermo-Catania. Sono parole dell'assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità Alessandro Enrico che ha commentato la decisione del Consiglio di amministrazione di Trenitalia grazie alla quale nei prossimi tre anni arriveranno sull'isola altri otto treni di seconda generazione portando così la flotta a un totale di 50 nuovi convogli. Si tratta di treni elettrici bidirezionali di nuova concezione dotati in media di 300 posti a sedere distribuiti in quattro carrozze per una capienza di 530 persone nel rispetto delle restrizioni imposte dalle nuove normative sanitarie. I modelli POP offrono migliori performance in termini di comfort e accessibilità raggiungono i 160 km all'ora sono dotati di un sistema di telediagnostica e uno di telecamere interne che migliorano la sicurezza e dispongono di posti pensati specificamente per i disabili e per facilitare il transito delle persone a mobilità ridotta. Inoltre sono composti fino al 97% di materiali riciclabili e riducono il consumo energetico del 30% rispetto alla generazione di treni precedente caratteristiche che li rendono adeguati a prestare servizio nel contesto della transizione ecologica. Le strutture e le caratteristiche delle casse di inalluminio infine contribuiscono a migliorare l'isolamento termico pertanto i tempi di raffreddamento durante la stagione estiva e di riscaldamento durante quella invernale sono stati ulteriormente ridotti. Torniamo a parlare di Caltanissetta la festa di Santa Barbara nel segno della tradizione. Un quartiere vestito a festa è vicino alla sua Santa Barbara protettrice dei vigili del fuoco e dei minatori. La festa di Santa Barbara ha da sempre rappresentato una festa molto sentita da residenti del villaggio e caratterizzata dalla grande partecipazione che con grande devozione prendono parte al culto religioso. La festa inizia la sera prima con la benedizione del fuoco in piazza Sabucina al termine della celebrazione eucaristica. Il giorno della festa dopo la messa mattutina nel pomeriggio si svolge la processione per le vie del quartiere dove i devoti al grido di Viva Santa Barbara rendono omaggio alla loro santa. Santa Barbara è legato al mondo dei minatori infatti Santa Barbara il villaggio nasce proprio in seguito all'apertura delle miniere e per tanti anni è stato abitato da minatori che andavano a lavorare nelle miniere vicine. Con la chiusura poi di questi luoghi comunque la tradizione della festa è rimasta grazie agli ex minatori grazie al comitato profesteggiamenti che è custode di questa tradizione ed è la parrocchia che se ne fa garante. Ogni anno c'è un clima di festa nei giorni precedenti perché celebriamo sempre il triduo in onore della Santa poi il sabato sera la tradizionale vampa o il tradizionale faloco la benedizione del fuoco e poi il giorno clui diventa sempre il 4 dicembre che vede la presenza di tanti fedeli che anche da altri quartieri della città scendono qui a Santa Barbara per onorare la nostra santa patrona. Le più suggestive immagini della costa del mito da venerdì scorso fino all'11 dicembre sono proiettate su due maxi schermi all'artigianato in fiera in corso negli spazi espositivi di Fiera Milano a Rò Opero si tratta della vetrina internazionale dell'artigianato di qualità giunta quest'anno alla sua 26esima edizione a girare sui maxi schermi sono le immagini di Agrigento Aragona Butera Campofranco Favara Licata Milena Naro Racalmuto Real Monte Palma di Montechiaro Santa Elisabetta oltre anche alle immagini dei parchi archeologici di Gela Agrigento e Selinunte e dei concerti del Festival Il Mito organizzati dalla Fondazione Teatro Valle dei Templi Torniamo a Caltanissetta dove Saturnino il bassista di Giovanotti che ha la passione degli occhiali ha performato e ha fatto sentire la sua musica il servizio Saturnino Gelani per tutti Saturnino è senza ombra di dubbio uno dei bassisti italiani più famosi in assoluto nella sua carriera si è dedicato anche alla composizione ed è anche un produttore discografico la sua passione per la musica è davvero trasversale e tocca tantissimi generi che vanno dal rock al jazz fino al funk la grande occasione arriva nel 1991 quando diventa ufficialmente il bassista di Giovanotti Saturnino lo conosce in uno studio a Milano e diventerà la sua spalla destra non solo sul palco ma anche nella delicata fase della composizione tantissimi successi di Giovanotti infatti sono passati dalle sue mani da ragazzo fortunato a il più grande spettacolo dopo il Big Bang il bassista ha una passione per gli occhiali motivo per cui è stato venerdì pomeriggio a Caltanissetta io ogni mattina mi sveglio e ringrazio la vita in generale perché alla fine non faccio altro che coltivare le mie passioni e le faccio in modo remunerativo che questa è una magia perché alla fine suonare e riuscire a sopravvivere con quello che fai e fare occhiali e funziona anche questo quindi non posso che essere felice abbiamo visto che hai prodotto anche due film e si leggiamo anche Jolly Blue e nel futuro farei altri film ma sai quello dell'aspetto cinematografico a me affascina tantissimo io vivo di film a casa al cinema e guarda qualche sera fa sono stato a vedere il concerto di Max Pezzali al forum e mi si è riaperto un file della memoria perché il potere evocativo della musica ti riporta quello e sono tornato esattamente al momento di Jolly Blue in cui interpretavo Lorenzo faceva Claudio Cecchietto e io facevo Pierpaolo Peroni pensate che 30 anni fa è successa questa cosa e per il futuro ci aspetta altra musica per Saturnino? ma la musica io vivrei ascoltandola pensate quindi neanche suonandola io direttamente già mi basta quella che è già stata fatta però perché no se dovesse succedere io sono sempre pronto sia a farla da solo che a farla con altri che è la cosa che amo di più grande tifoso del Milan per cui ha inciso insieme a Demi Schirra Lino Rossoneri ma lo sai che è stato il mio pezzo più ascoltato quest'anno su Spotify ha un motivo? beh sì perché la stagione è andata benissimo quindi pensa te quello è un pezzo che ha iniziato a funzionare sei anni dopo perché è comunque direttamente collegato all'andamento della squadra quindi se la squadra va bene e tutto il resto va bene è un piacere questa sera stare accanto ad uno dei più grandi bassisti che abbiamo sicuramente al mondo è stato Nino il batterista di Giovanotti l'artefice di tantissimi brani scritti da lui come il ragazzo fortunato e siamo davvero emozionati avere l'ospite a Caltanissetta è qualcosa di incredibile perché comunque gira sempre in tour con Giovanotti e difficilmente si sposta da solo per cui viva Saturnino viva la musica la musica tutta non è paradiso ma di farlo bene vieni fai un vento con su riso vai e e yeah e la musica l'artefice Dopo 44 anni di servizio è andato in pensione il direttore generale della Banca Tognolo, Tommaso Falzone, classe 1953, San Cadeldese, nel corso della sua carriera professionale ha avuto modo di collaborare con gli uomini che hanno contribuito allo sviluppo di tutto il movimento del credito cooperativo, ricoprendo ruoli apicali a livello regionale e nazionale. Direttore generale della Tognolo dal 2011, Falzone ha assegnato la storia dell'ultimo decennio dell'Istituto di Credito San Cattaldese. A raccogliere l'eredità professionale di Falzone sarà Nicola Pulicchia. Parliamo adesso di tennis, torneo vintage a Caltanissetta in stile anni 60. Da 4 anni il tennis club di Caltanissetta presieduto da Gianluca Nicosia porta avanti il torneo vintage. I giocatori infatti scendono in campo vestiti come i tennisti degli anni 60, con completi totalmente bianchi, con una certa sobrietà che negli anni si è andata perduta. Dalle polo di lana sino alle gonnelline per le donne, usi e costumi di un tennis che come tutti gli sport si è modernizzato col passare del tempo. Siamo particolarmente felici di riprogrammare ogni anno il torneo vintage che vede all'interno dei campi sfidarsi tantissimi giocatori. La particolarità di questo torneo è quella che i giocatori devono essere per forza vestiti con abbigliamento di anni 60-70 e si gioca con racchette rigorosamente di legno. Quindi la formula è molto semplice, è l'ennesimo appuntamento che il tennis club riesce ad organizzare in così breve tempo. Abbiamo avuto proprio la scorsa sera un'ulteriore edizione, abbiamo fatto la prima serata Masterchef. Questo rientra chiaramente nelle attività sociali che la nostra associazione sportiva promuove e svolge in tutto quello che può essere la socializzazione, la sportività e tutte quelle che sono le regole del fair play. Passiamo al calcio. Serie D, la San Cataldese pareggia al Mazzola di San Cataldo contro il Catania. Eccellenza alla Nissa perde a Leonforte. Calcio, Serie D, San Cataldese-Catania finisce 1-1 al termine di una partita caratterizzata da eccessivo nervosismo. Verdi-Amaranto in vantaggio all'ottavo del primo tempo con Zerbo, pari di somma al quindicesimo, nella ripresa sostanziale equilibrio. Sono soddisfatto perché dopo 5 minuti siamo andati in vantaggio e non era facile dopo mettersi subringareggiata. Abbiamo affrontato una buona squadra San Cataldese, una squadra che veniva da 6 risultati, di cui di consiglio di subendere solo un gol, però ho visto una grande reazione, ho visto una partita molto maschia, molto agguerrita, dei calciatori davvero che andavano nel contrasto con molta vigoria. Però faccio i complimenti al Catania perché non era facile pareggiare e poi cercare di vincere la partita, soprattutto anche il secondo tempo, per questo è una prestazione che è importante contro una squadra che stava in salute. Abbiamo fatto di tutto per vincere la partita, però ci è mancato l'ultima giocata. Però faccio i complimenti alla San Cataldese perché ha messo uno spirito oggi importante, che è a fronte del Catani, con questa adusione, con questa voglia, però va bene così. Alla fine siamo al Catania, un derby che abbiamo fatto un pareggio e spesso pensiamo a martedì la prossima gara. Noi ci chiamiamo il Catani, però oggi è stato un punto importante nel senso di, per la partita, se guardiamo il valore del Catania, San Cataldese, no, però nella prestazione, per come hanno giocato, per come hanno fatto, hanno fatto una partita di grande intensità. Per cui sono contento, perché si può pure perdere una partita così, non è una cosa facile, sicuramente. Devo dire che la mia squadra ha fatto una grande partita, ha fatto una grande partita con un grande avversario, perché nessuno può dire che questa squadra, il Catania, è una squadra di serie D. Però oggi i miei ragazzi, ancora una volta, hanno dimostrato che vogliono essere protagonisti, non si sentono inferiore a nessuno, sappiamo le nostre armi, per questo magari possiamo dare fastidio o sembrare un gioco un po' più duro, grintoso, ma noi ci dobbiamo salvare, l'ho detto sabato, noi dobbiamo vincere il nostro campionato, non possiamo mettere le armi che è al Catania, noi dobbiamo mettere le nostre, quello di essere compatti, di essere aggressivi, di essere grintosi, i risultati della quattordicesima giornata. Castrovillari-Ragusa 0-0, Acireale-Mariglianese 2-1, Cittanova-Sant'Agata 2-2, Lamezia-Locri 1-3, Trapani-Sanluca rinviata, Santa Maria-Licata rinviata, Reala-Versa-Vibbonese 1-0, San Cataldese-Catania 1-1, Canicattì paternò il 7 dicembre. La classifica Catania 36, Locri 25, Sant'Agata-Lamezia e Vibbonese 22, Ragusa 21, Castrovillari-Licata 19, Reala-Versa e Trapani 18, San Luca 16, Canicattia-Cireale 15, Santa Maria-San Cataldese 14, Cittanova paternò 13, Mariglianese 3. In eccellenza Nissa ha battuto a Leonforte 2-1, Enesi avanti di due gol messi a segno da Meta e Giolita. Vana la prodezza di Ortiz che accorcia le distanze, che merita di essere rivista da un'altra angolazione. Per la Nissa è la sesta sconfitta stagionale. Andiamo sotto sistematicamente e poi cerchiamo di ribaltare la partita, ma non possiamo sempre fare dei regali e recuperare la gara. E oggi l'abbiamo pagata cara. Non c'è stata la solita reazione raggiante che abbiamo avuto, ci ha contraddistinto nelle gare interne. Io ho cercato con tre sostituzioni, mettendo più forze a livello offensivo, mettendo il ragazzino, il portierino under in porta e dando maggiore peso con i nuovi innesti di esposito nella vardera. Ma purtroppo non ha sortito nessun effetto. C'è da lavorare, c'è da far quadrare i conti, capire dove sbagliamo, ma ho individuato che il problema primario è la testa. Domenica siamo al Tomaselli, sarà la prima in casa al Tomaselli. Incontreremo un buon Mazzara, ma noi a prescindere da chi viene in casa, rispetteremo tutti gli avversari, ma cercheremo di fare il nostro bottino, perché in casa non possiamo perdere punte. I risultati della tredicesima giornata. Cus Palermo, Parmonval 2 a 2, Castellammare, Mazzarese 0 a 0, Enna, Acragas 1 a 0, Leonfortese, Nissa 2 a 1, Resuttana, Casteldaccia 0 a 1, Don Carlo, Oratorio, Marineo 4 a 1, Mazzara, Sciacca 2 a 0, Gela, Profavara 1 a 2. La classifica, Acragas 30, Don Carlo 29, Profavara 28, Enna 26, Mazzara 25, Sciacca 22, Mazzarese 21, Casteldaccia 19, Castellammare 16, Nissa 15, Leonfortese 14, Oratorio 12, Cus Palermo 8, Resuttana 7, Gela 6, Parmonval 5. Volley B2 femminile, Alba Verde, Caltanissetta, Vittoriosa anche a Catania, Contro la Volley, Lenissene sono al primo posto. Ancora una vittoria, con il massimo scarto, ancora tre punti, questa volta esaltanti, che dimostrano come l'Alba Verde non soffra di vertigini. Il risultato, altro 3 a 0 finale, è stato impietoso, anche se non testimonia fino in fondo la durezza della gara, ma la sostanza è quella di un'Alba Verde che esce vittoriosa con il massimo scarto dallo scontro contro la Funivia Etna, dopo una battaglia senza esclusione di colpi, in una gara a tratti bella, ma sempre vibrante. In una gara non perfetta, l'Alba Verde ha conquistato il massimo risultato possibile grazie a una grande volontà e spirito di gruppo. Sabato 10 dicembre, l'Alba Verde se la vedrà al pala Cannizzaro contro la Saracena. I risultati della non aggiornata Serie B2, Girona M. Cus Catania, Gioiosa 3 a 1. Funivia Etna, Alba Verde 0 a 3. Pallavolo Crotone Stefanese 3 a 0. Zafferana Fidelis Torretta 3 a 0. Saracena Brico City Volley 3 a 0. Procorri e Ricina Planet 3 a 0. Volley Region Ardenz Comiso 3 a 2. La classifica. Alba Verde 25 punti, Zafferana 24, Pallavolo Crotone 23, Procorri e Ricina e Cus Catania 18, Gioiosa 17, Funivia Etna 16, Fidelis Torretta 14, Saracena 12, Volley Region 9, Ardenz Comiso 6, Brico City Volley Stefanese 3 punti, chiude la Planet a 1 punto. Basket Serie D, Invicta Inarrestabile, Nisseni primi con 4 punti di vantaggio. Nel campionato di basket di Serie D, la capolista Invicta batte con merito 94 a 69 il capo ASD e crea un solco di 4 punti sulle 3 seconde, capo, Santa Agata e Cefalù, restando in vetta in classifica imbattuta con 10 punti in 5 gare. La partenza è tesa con le squadre contratte che si studiano e la squadra messinese appare una vera corazzata, ma il quindetto nisseno, pur soffrendo il peso avversario, riesce a tenere testa in velocità con giocato in contropiede e canestri pesanti. Una vittoria importantissima per la classifica e soprattutto per quello che hanno dato i ragazzi del coach Spena. Una Invicta che vola quando gli altri calano grazie al sacrificio del lavoro estivo con un gruppo combatto e coeso che sognano il raggiungimento di un piazzamento playoff. Questa edizione del nostro telegiornale termina qui. Vi lascio al meteo e alle informazioni di pubblica utilità. Amici di Trevi Meteo bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì che vedrà ancora un flusso di correnti umidi occidentali interessare parte dell'Italia e soprattutto le regioni centrali dove insisteranno appunto un po' più di nuvole e nel resto del paese giornata discreta non mancheranno anche delle belle schierite attenzione però al ritorno di nebbie e foschie in pianura padana. Vediamo intanto la nuvolosità prevista sull'Italia e appunto non mancheranno anche delle aperture in giornata però qualche nuvole insisterà nell'Italia centrale e qualche velatura passerà al sud però nel complesso ripeto giornate in molte zone che ci regalerà anche delle belle aperture. Come precipitazioni vi segnalo solo qualche gocce di pioggia comunque piogge non particolarmente insistenti su Toscana Umbria Marche e Romagna quindi parte dell'Italia centrale per il resto dovremmo cavarcela abbastanza bene quindi in definitiva ci attende un martedì che ci regalerà anche delle belle aperture attenzione però intanto a nebbie e foschie di notte e al mattino in pianura padana e poi appunto un po' di variabilità nell'Italia centrale con qualche acquazzone su Toscana Umbria Marche e Romagna al sud come vi anticipavo qualche velatura di passaggio ma senza conseguenze per tutte le taglie e comunque sulle vostre località anche per il Ponte dell'Immacolata consultate l'app gratuita di Trebi Meteo Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno Caltanissetta Servizio diurno Eufrate Viale Stefano Candura Servizio notturno Messana Viale Conte Testa Secca Viale Conte Testa Secca Viale Conte Testa Secca Viale Conte Testa Secca